20 giugno 2016, siamo sull'aereo diretto San Francisco, ci ritroveremo fra Dovifiora all'atterraggio, siamo a San Francisco, oggi è lunedì 20 giugno 2016, ci siamo sposati da due giorni, tadaaa, 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 ci siamo nel Golden Gate Park e adesso siamo entrati dentro al Japanese Tea Garden, siamo al Golden Gate Bridge, mercoledì 22 giugno 2016, siamo in un parco del quartiere Castro di San Francisco, siamo al Mission Dolores Park. Stiamo facendo la gara con il tram di Milano, mi sa che vince lui, ciao Rosy saluta con la mano. Sai che l'abbiamo trovata, Marco è felice come la Pasqua, ecco, wow è anche decappottabile, sai che io non la guiderò mai? Com'è la macchina? Fantastica! Abbiamo anche tolto la cappotta. La temperatura è decisamente diversa rispetto a quella di San Francisco, qua fa veramente tolto. Saluta! Ciao! Giovedì 23 giugno siamo al Sequoia National Park e ci abbiamo messo una vita per arrivare perché era tipo 80 miglia dal nostro albergo. abbiamo trovato l'albero più grosso, oggi è venerdì 24, siamo a Las Vegas. Siamo al Peppermil, abbiamo trovato questo posto su Instagram e su TripAdvisor ed effettivamente aggeccatissimo, ci sono così super mega colazioni. Allora invece di darci al gioco d'azzardo ci diamo allo shopping di dolci, siamo nel negozio dalle M&M's e tutte queste sono tutte caramelle. Per la prima volta dopo 500 miglia nel bel mezzo dello Utah abbiamo cambio di guidatore, signorina vuole dirci le sue impressioni. Per ora tutto bene. Stiamo andando al Bryce Canyon, mancano 60 miglia più o meno quindi fra un'oretta dovremmo esserci. Saluta. Ciao. Non ho capito scusa poi ripeteremo. Wow. Minchia. Bellissimo. Adesso facciamo vedere anche a voi. Allora. Mamma mia mi vede la pelle d'oca. Siamo. Signoroncio la pelle d'oca. Lo dico tanto di quando mi capiscono sti cazzi. Siamo al Bryce Canyon. Abbiamo fatto la discesa e la salita e adesso stiamo tornando. Ma non è stato per niente faticoso. Stiamo tornando al punto di partenza e noi abbiamo fatto tutta la discesa. Adesso stiamo rifacendo tutto il sentiero che costeggia il Canyon e c'è questa vista che non soffiato. È domenica 26 giugno. Siamo andati in questo canyon sotterraneo. Dovrebbe essere bellissimo. Nel bel mezzo del deserto. Siamo arrivati. Andiamo per arrivare all'ultima tappa di oggi. Horseshoe Band. Band non bad. Horseshoe Band. Che è praticamente dove il fiume fa la cosa a U. E anche qua mi viene da dire questi gran cazzi. Eccoci qua alla Monument Valley. Abbiamo optato per il giro in macchina. Allora. 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 E' martedì 28 giugno. Siamo al Grand Canyon. Siamo venuti a vedere il Samonto, il Grand Canyon. Ci ha soddisfatto molto di più rispetto a quanto ci avesse soddisfatto oggi. Ciao. Siamo a Los Santos. Nooo. Scusate, a Los Angeles. Ma come Los Santos? Sono nel mood di Grand Theft Auto io. La scritta Hollywood. Siamo spostati dall'osservatorio al mare. Siamo. Siamo qua. E' lì. Sì. 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 Siamo nella World Cafe. E' l'Hollywood Boulevard. Pieno di gente. Ed è molto più bello di ieri sera. Il marciapiede è stappeggiato di stelle. Tipo una a caso. Britney Spears. Britney Spears. E' lì. E' lì. E' lì. Adesso che vedete la visione. E' lì. Siamo saliti sotto questo vulcano ormai spento che si chiama Diamond Head. Abbiamo fatto una combinata di mezz'oretta. Faticosa per i gradini Faticosa, sì Aloha, siamo arrivati a Maui Adesso una a te Oh, è freddo Una a me Tadam, sono vere, sono bellissimi Allora, facciamo Questo è il cocktail di benvenuto che ci hanno preparato E poi, avevano detto che era una vista parziale sull'oceano Diciamo che, sì, è parziale perché non si vede proprio tutto, 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 tutto l'oceano Però Se ne vede solo un pezzo, diciamo Ragazzi, che onze Oggi è sabato 9 luglio 2016 Ultima mezza giornata di spiaggia Aloha Stiamo prendendo l'ultimo cocktail del giorno Della nostra Della nostra splendida luna di mie Ieri sera siamo andati allo spettacolo di magia La Rosy ha fatto da assistente al mago Stiamo bevendo l'ultimo cocktail Che è buonissimo, tra l'altro Perché non piace il midone, è molto buono Tra mezz'ora vengono a prenderli per andare, per portarci all'aeroporto Notate bene che le collane Per vedere la collana dopo una settimana Dopo una settimana ci sono ancora Saluta Aloha Abbiamo imparato due parole Aloha e malo Ciao Oh, qua vola tutto Quindi, ciao, ci vediamo a casa